eccoci qua queste sono le prestazioni dei pedali zero ma sta a salire la cadenza 10 watt zero salita al 7 per cento argomento missile zero ottimo la stazione di vector 3 la carmin 1000 euro dei pedali seconda coppia la prima già rimandata indietro la seconda dopo due settimane di funzionamento batteria perfetta 290 145 e passi sospita zero via vai come all'otto dai lasci un bel numeretto all'otto garmin dai questa cinesata pagata 1000 euro dai non è stato stato puro vai vergogna vergogna davvero guarda una vera vergogna vabbè grazie